buongiorno a tutti ben ritrovati sono le 7 e 30 le 7 e 30 del mattino di oggi giovedì cominciamo subito con il calendario del giorno vediamo il santo di oggi san mattia san mattia apostolo il sole sorto alle 5 43 tramonterà le 20 26 vediamo il tempo il tempo allora intanto la temperatura la temperatura alle 7 e mezzo è già piuttosto alta perché siamo a 22 gradi possiamo dire ma è interessante vedere la velocità attuale del te del vento che sta tirando e sta soffiando con delle belle raffiche anche se soffia molto più forte nell'entroterra così come era stato preannunciato ieri da un allerta meteo della protezione civile delle marche dicevo la velocità del vento attualmente di 22 di 22 chilometri orari mentre la raffica più forte si è avuta all'1 e 4 minuti della scorza notte una raffica di 40 chilometri orari il tempo vedete il l'immagine questo queste nuvole spazzolate dalle raffiche di vento vedete proprio dipinte molto bello questa immagine queste nuvole che appunto sono così stirate dal vento andiamo a vedere adesso le previsioni cielo parzialmente nuvoloso per oggi con nuvole stratificate temperature lieve aumento i venti sud occidentali il mare sarà da poco mosso a mosso per domani venerdì 15 maggio avremo cielo parzialmente nuvoloso nel pomeriggio precipitazioni brevi con rovesci sull'appennino centro settentrionale temperature minime lieve aumento guardate invece la giornata di sabato giornata di sabato è una giornata caratterizzata da temporali e alcune schiarite nella parte centro meridionale della regione durante le ore centrali della giornata avremo anche rovesci o temporali sparsi sabato con temperature in sensibile diminuzione ancora rovesci temporali sul settore centro meridionale della regione durante la notte e la mattinata di domenica poi c'è un miglioramento che prevede cielo sereno in prevalenza sereno dal pomeriggio che durerà fino a metà della prossima settimana adesso i giornali allora anche oggi secondo giorno consecutivo l'edizione del resto del carlino online non è disponibile è un servizio che insomma non è da poco soprattutto per chi paga l'abbonamento e quindi immagino sia non solo fano tv ma anche quelli che hanno deciso di pagare l'abbonamento per leggere il giornale magari alle 7 della mattina alle 6 della mattina la convenienza è questa no però non funziona speriamo che risolvano il problema allora cominciamo dicevo a leggere quindi avremo il corriere ed il messaggero allora chiusa la casa chiusa la casa dell'eroina preso lo spacciatore stiamo parlando di un 32enne che è stato arrestato a centinarola di fano dopo un inseguimento aveva 1,7 etti di droga e 8 mila euro in contanti quindi 170 grammi di eroina purissima per un valore di 20 mila euro e 8 mila euro in contanti è stato arrestato un tunisino di 32 anni ritenuto dai poliziotti il terminale di uno spaccio increscendo nella città la droga arrivava dalla stazione ferroviaria tramite i pendolari nigeriani e di lì veniva distribuita dal centro alla periferia vi dico soltanto questo c'era qualcuno che ieri diceva ma quanta droga gira in città è vero quanta non passa giorno che vengono arrestati denunciati segnalati soggetti personaggi stranieri italiani cioè che poi la palissiano dire che insomma sciocco ma va da sé che se c'è gente che vende c'è anche gente che chiede che consuma di conseguenza se prendono tutti questi spacciatori vuol dire che ce n'è una marea che consuma in città consuma sostanze stupefacenti e tra l'altro il Corriere Adriatico questa mattina dà anche la notizia di un di un altro personaggio che è stato rincorso e acciuffato al Lido un altro centro dove di notte a una certa ora succede di tutto questo uomo vendeva vendeva hashish dalle parti di largo simonetti via le caerone poi il ricatto alla profil glass i due legali dei campani arrestati fanno leva sui certificati medici dopo la convalida degli arresti il PM raccoglie elementi per un'eventuale richiesta di rinvio a giudizio contestata sotto il punto di vista urbanistico per il suo enorme sviluppo nell'area industriale di Bellocchi di cui occupa una buona parte e non di meno contrastata sotto quello ambientale soprattutto dai residenti della frazione per il particolare processo di lavorazione che esercita ovvero la produzione dell'alluminio la profil glass ora è salita la ribalta della cronaca quale vittima di un tentativo di estorsione orchestrato da due suoi dipendenti l'altra notizia invece di cronaca arriva da da marotta dove un rumeno un rumeno è stato arrestato dopo l'ennesimo episodio di abuso e di maltrattamenti in famiglia perché perché quest'uomo ha picchiato la moglie e la figlia ed è stato arrestato torna a casa ubriaco esplode il terrore i militari trovano mamma e bimba barricata in casa e dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo scrive il giornale ha compiuto quello che già troppe volte aveva fatto prima colpito al volto la compagna con tanto di ingiuri e minacce poi come se non bastasse si è scagliato sulla figlia di appena 11 anni che aveva cercato di difendere la mamma è così finito in manette un 55enne rumeno per maltrattamento in famiglia e lesioni personali mentre la donna sempre rumena di 43 anni ha deciso di chiamare il 112 le violenze in famiglia sono purtroppo in costante crescita nell'81 per cento dei casi le vittime sono donne di sempre sulla pagina del corriere da cartoceto dall'educazione alla legalità al buon cibo aperte le iscrizioni ai corsi dell'ambito set destinati ai giovani tra le opzioni anche la comunicazione multimediale la pagina di pesaro allora andiamo a vedere la notizia principale intanto i disagi disagi che sono successi all'ospedale di pesaro al san salvatore che ha fatto ieri ha dovuto fare le analisi lì in ambulatorio si sarà reso conto insomma di lunga attese caos e quant'altro alle 24 di mercoledì infatti è entrato in funzione per l'azienda ospedale Marche Nord l'aggiornamento dell'IS che cos'è l'IS è il sistema informativo di laboratorio che gestisce le richieste dei pazienti e processa e memorizza le informazioni generate dai macchinari dei laboratori di analisi e qualcosa però non ha funzionato per cui ci sono stati dei ritardi nelle nella trasmissione degli esiti degli esami e difficoltà per il pagamento e il ritiro e il ritiro dei referti con conseguente ovviamente alterazione d'animo di tutte le persone che erano lì in attesa la camera di commercio invece ha pubblicato i redditi delle cariche elettive e da questa pubblicazione emerge che il commercialista franco d'angelo per esempio al vertice di questa classifica con 227 mila euro contro i 128 mila euro del presidente della camera Alberto Drudi. Anticipiamo i saldi di qualche ora negozi aperti durante la notte rosa arriva la richiesta rivolta alla regione Marche da parte del comune di Pesero per quanto riguarda i saldi estivi. Poi sul Corriere Giro d'Italia ordinanza sulla viabilità la carovana rosa arriva martedì fervono i lavori anche per la sistemazione delle strade il passaggio del giro è previsto a Pesero per le ore 14. A Fossombrone invece l'appello dei sindacati dopo l'accoltellamento in carcere chiedono l'adeguamento tecnologico per un carcere più sicuro dopo il gravissimo fatto di un detenuto accoltellato alla gola da un compagno. Si tratta di reclusi, scrive il sindacato dal significativo spessore criminale, un episodio grave che ha riportato il carcere di Fossombrone per qualche ora indietro di circa 40 anni. A pagina di Fano invece si occupa ancora del Rincicotti Orciani arbitrato tra Asete e Rincicotti, Chiestigliatti accusa boomerang di fanesi commissione illegittima perciò lo sarebbero pure tre sedute del Consiglio. La presidente Grillina in scena un teatrino deprimente, mentre più sotto Ansuini ha un ruolo di garanzia, non può essere giudice. Andiamo adesso sul messaggero. Il messaggero è la pagina di Fano. Nella casa di Centinarola, il club privé della droga. I clienti si intrattenevano a consumare l'eroina in un ambiente riservato. La polizia ha identificato numerosi acquirenti tra i 20 e i 30 anni. Sulla questione estorsione alla profilglas, pronto ricorso, i legali degli operai ai domiciliari vogliono rivolgersi al Tribunale del Riesame. Intanto proseguono le indagini portate avanti dai carabinieri e dalla Procura. Sotto invece un codice leggerà i monumenti. Un cicerone tecnologico è già appollaiato sulle insegne metalliche che illustrano 5 tra i principali monumenti di Fano. Ha le dimensioni di un taccuino tascabile, 10 cm per 10, ma è ricco di informazioni che possono essere lette grazie al cellulare. I tedeschi di Rastat, in città per il trentennale del gemellaggio, lo proveranno già da oggi. Per Roberto, il giovane disabile, già raccolti mille euro per aiutarlo a ricomprare una carrozzina simile a quella che gli è stata rubata. Paura in casa. Picchiate mamma e figlia. L'uomo ubriaco colpisce la compagna al volto. Le due sono riuscite a rinchiudersi in camera da letto e a telefonare ai carabinieri. Poi la corsa al pronto soccorso. Il rumeno è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni. Le violenze duravano da molto tempo. Vittorio Sgarbi da Urbino. Non solo porchetta, ma grandi mostre. Sgarbi punta ad un'estate a chiappaturisti. Intanto si aderisce alla protesta contro l'ISIS di 50 siti dell'UNESCO. Ecco la bandiera blu, ma sventola su delle spiagge che ancora non hanno nemmeno la sabbia. Parte la stagione balneare, però il ripascimento è in ritardo. L'assessore pesarese Biancani dice speriamo di terminare i lavori entro la fine di maggio. Il centro storico di Pesaro non scaricherà più nel fiume Foglia. Ambiente, firmata la convenzione tra Regione, Ato e Marche Multiservizi, stanziati più di 10 milioni di euro. Il finanziamento servirà per realizzare l'allaccio fognario. Previsto anche il potenziamento del depuratore. Regionali, la corsa alle regionali. Oggi arrivano i big. Da Salvini ad Alfano arriverà anche il Premier Renzi. Sostegno ai candidati. Oggi l'ex ministro Lupi lancia spacca, il segretario della Lega e Ignazio Larussa per Acquaroli. Infine l'ultima pagina che poi è la prima del messaggero. Si parla di Megascuola che cresce ancora e che mette i genitori in allarme. Stiamo parlando del Mamiani verso un nuovo record di iscritti nei tre indirizzi. Però le strutture sono a questo punto messe a dura prova. Mentre a centro pagina la fotografia è per i Camillas. La lunga notte della finale. Italia Go Talent. Il duo pesarese si gioca tutto. Stasera la finale di Italia's Go Talent. Su Sky l'originalissimo duo pesarese di Camillas. Gioca il tutto per tutto. Mentre qua sotto per quelli che vogliono sapere come sarà il tempo nei dettagli dei prossimi giorni. Il tempo torna stabile. C'è l'articolo del meteorologo del messaggero Massimiliano Fazzini. Ed è tutto. Grazie per aver seguito Occhio ai giornali. L'appuntamento per domani mattina in diretta alle 7.30. Un cordiale saluto ovviamente anche a chi ci segue in replica. E stasera alle 20.30 invece c'è l'appuntamento con Occhio alla Notizia del nostro telegiornale. Arrivederci e buona giornata a tutti.